Ciao, sono Fausta, ho 74 anni quasi ed abito a Campolongo Maggiore. Sono sposata da 50 anni, ho due figli e quattro nipoti. Ho iniziato a lavorare a 16 anni in un'azienda multinazionale e passo dopo passo sono arrivata a ricoprire un ruolo da dirigente. A 55 anni sono andata in pensione ma non mi piaceva fare la casalinga. Sentivo di avere ancora tanta energia da poter donare e così ho iniziato a fare volontariato, prima in ospedale e poi in una casa di riposo. Nel lontano 1997 ho sostenuto la creazione nel mio comune di un gruppo di volontari dedito agli anziani che un anno dopo con il supporto della FNP Gisle di Venezia è diventato Anteas Campolongo Maggiore. Le attività che svolgono l'associazione sono tante anche perché da molti anni ormai ne sono la presidente. In particolare il mio ruolo mi porta a rapportarmi con gli enti istituzionali, al disbrigo delle varie pratiche burocratiche, alla programmazione col direttivo delle iniziative annuali ma soprattutto all'affiancamento dei volontari. Per il 2020 avevamo preparato un programma di attività che ci avrebbe visti impegnati in molti campi e ne eravamo entusiasti. Purtroppo a febbraio siamo stati costretti a fermarci ma ci è venuta in soccorso la Tessa Nazionale insegnandoci ad interagire tramite i social e questa è stata e continua ad esserlo una grande soddisfazione e la nostra fortuna. Abbiamo così potuto mantenere i contatti fra di noi e quei nostri soci cosa che mai avremmo pensato si potesse fare. Il sogno del 2021 è naturalmente poter riprendere quanto prima le attività cominciando dallo stare insieme e riabbracciarci. Mancano tantissimo a tutti gli incontri di Pausa Caffè, un'iniziativa che vedeva coinvolti più di 80 partecipanti fra volontari e persone considerate fragili o a rischio isolamento. Il clima creatosi era quello di una grande famiglia che vogliamo riunire il prima possibile. E adesso aspettiamo tempi migliori. Intanto ci prepariamo per essere pronti alla ripartenza con grande fiducia. Nel frattempo l'apprendimento dell'uso dei social ci permette di continuare a dare informazioni, pubblicare video, tenerci in contatto, distanti ma vicini a quel cuore. Ricorda, Anteas è il volontariato che fa la differenza.